Sono Lucia Premda Costucci, l'ideatrice e l'autrice del libro e del programma Infinitamente Mamma. Teniti forte perché quello che stai per ascoltare cambierà davvero la tua gravidanza e eviterai a tuo figlio molti guai. In questo video parleremo insieme a Leo degli alimenti vivi ed integri, alcuni cereali che io chiamo i Magnifici Otto, possono davvero trasformare giorno per giorno il tuo corpo, i tuoi pensieri e le tue emozioni contro i cattivi. Forse lo sai o lo hai già sentito il detto che siamo proprio quello che mangiamo? E il punto è che accade proprio questo. Prima di tutto voglio che tu ricordi che mangiare è totalmente diverso da assimilare. Ho sottolineato questo concetto anche nel mio libro Infinitamente Mamma e mano a mano che ci focalizzeremo su ciascun cereale, tutto ti apparirà più chiaro, come acqua cristallina? Prima di tutto chiariamo il perché. Chiariamo il perché vi sto parlando di alimenti vivi, in questo caso parliamo di cereali, siete d'accordo? Beh, perché essi aumentano la vitalità e stimolano il sistema immunitario, regalano anche il peso, aiutano la costruzione di nuovi tessuti, quindi fondamentali per il nascituro. Inoltre aiutano anche a disintossicare il corpo con tutti i suoi organi, da molte tipologie di tossine e naturalmente questo passaggio dovrebbe essere fatto prima di rimanere gravida o perlomeno il grosso del lavoro. Stiamo parlando della detossificazione dalle tossine del drenaggio, è proprio per questo che bisogna imparare ad anticipare. La verità è che molti di voi si svegliano troppo tardi, si svegliano come da un torpore di solito dopo aver accertato di essere in stato interessante, poi c'è chi si sveglia addirittura dopo aver partorito e chi si sveglia dopo qualche anno dalla nascita del figlio, quindi troppo tardi.